Sono solo 1800 secondi, ma come pesano? I 30 minuti della discordia separano i gestori dei locali dagli amministratori della città. È vero, non era facile il compito della sindaco Masci chiamato a fissare l'orario di chiusura di bar e ristoranti ora che l'Abruzzo è in zona bianca e quindi sono spariti i vincoli imposti dal colore. Tuttavia, se mediazione c'è stata, è stata più politica che sul campo, vale a dire che si è giocata più dentro la maggioranza che tra i gestori dei locali. Loro infatti, che avevano proposto chiusura indifferenziata alle due per tutti e tutti i giorni in estate, lamentano di essere stati tagliati fuori dalla discussione. Dunque la scelta del sindaco, chiusura a mezzanotte e 30 dalla domenica al giovedì e a 1.30 il venerdì e il sabato, è avvenuta senza confronto. Il comune però difende la scelta adottata a tutela dei residenti, i quali, dicono i ristoratori, hanno già avuto parecchio tempo per riposare e, almeno per quest'estate, potevano mostrare maggiore indulgenza verso chi, mentre loro riposavano, ha perso un mare di incassi tra un lockdown e l'altro. Non era questo l'anno. Giugno, luglio e agosto si doveva dare una libertà superiore. A settembre ci si poteva sedere in un tavolo per trovare un punto in comune. Quindi anche se a luglio si decida sicuramente di aumentare e dare la possibilità di stare e di consumare in orari superiori, è troppo tardi. Dobbiamo partire immediatamente. Ma secondo voi il Covid va a letto verso l'una meno un quarto? Assolutamente no, ma non credo più che sia un problema di natura pandemica. Pescara è negli ultimi tre mesi tra le città con numeri più virtuosi in tutta Italia. Quindi il problema non si pone ed è un problema che anche i comuni vicini invitano ad andare, come abbiamo visto il Sino di Francavilla, a Francavilla o al limite a Montesilvano e questo crea un danno all'immagine della nostra città non da poco. Noi avevamo proposto di discutere fondamentalmente per andare incontro a tutte le esigenze a settembre. Siamo sconcertati e delusi da un nuovo limite di orari, proprio adesso che andiamo in zona bianca, per il semplice motivo che veniamo da un anno straordinario e in quest'anno queste attività si sono autofinanziate, autosostenute. È già un miracolo che riescono ad aprire, per cui non vediamo alcun motivo per imporli dei limiti che costeranno il peso di fatturato e quindi di redditività delle aziende. Le associazioni di categoria, quasi tutte, si dicono già pronte alla battaglia, ma ecco che in tarda mattinata arriva la convocazione del sindaco. Ci si vede tutti in comune alle ore 16.